Ambiente e salute è il titolo di un importante convegno tenutosi nel Salone di rappresentanza della provincia di Taranto ed organizzato dall'AIL, l'associazione italiana lotta contro le leucemie. Al centro dell'agenda le conseguenze dell'inquinamento ambientale sulla salute dei cittadini. In apertura lavori i saluti del direttore sanitario dell'Asla di Taranto, Sante Minerba. L'AIL si fonda sul volontariato ma è sempre vicina all'azienda sanitaria. Poi il tema dell'incontro di oggi, ambiente e salute, è ancora più importante per noi. Ci sono delle terapie che effettuiamo solamente qui a Taranto e quindi sicuramente lo sforzo dei colleghi è quello di stare appresso alle migliori terapie possibili. Da parte mia come azienda per andare incontro a quelli che sono poi i provvedimenti da prendere in temi di prevenzione sono importantissimi dati. Quindi conoscere l'incidenza delle patologie e anche in questo tuttora l'AIL e il reparto ci sussidiano per avere i dati più certi dell'andamento delle patologie neoplastiche. Una preziosa occasione per approfondire il rapporto tra ambiente e salute umana con la partecipazione di figure illustri nel campo della sanità tarantina e non solo.